Qualcuno ha sparato con una pistola a quel povero ragazzo. Non è stato il mio fucile. Vittorio Emanuele di Savoia è stato arrestato. L'accusa è pesante. Di fatto ammette la sua responsabilità nell'uccisione di un ragazzo. Un venio veloce che è stato ferito tuo fratello. È stato il principe. È morto Dirk Gerd Hamer. Il principe sparatore, come lo hanno chiamato i giornali francesi, rischia fino a vent'anni. Ma poi sono successe delle cose stranissime. Hanno detto che voi con i soldi siete riusciti, e col potere, a far rimandare il processo. No, non vedo come. Ma perché di colpo uno diventa innocente che tutto il tempo chiaramente è stato colpevole? Per 17 anni ho dovuto difendermi da tutti quanti che volevano, come nella corrida, la morte del toro. Ma il toro c'ha le corna. La morte del toro c'ha le corna. La morte del toro. La morte del toro c'ha le corna. La morte del toro. Grazie a tutti.